Musica Forte il dibattito in consiglio regionale sull'inchiesta denominata che è o della direzione distrettuale antimafia di Firenze, prima gli interventi del presidente Gianni che sottolinea quanto la Toscana sia assolutamente impermeabile a qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa, annunciando che la regione si costituirà parte offesa rimanendo al fianco dei cittadini. Infine, per evitare ogni equivoco, dichiara ripristiniamo il testo originale della legge 20 modificata nel maggio scorso. Poi si prosegue con la comunicazione dell'assessore all'ambiente Boniamonni che ripercorre la vicenda, sottolineando che la regione risponderà con forza e continuerà a garantire la salute dei cittadini e dei territori. A termine della comunicazione, dibattito dei consiglieri. Indubbiamente è stato un dibattito costruttivo, un dibattito in cui sono emerse posizioni politiche, si è approfondito gli aspetti. Come giunta abbiamo risposto con una mia relazione più generale, una più specifica di Boniamonni, su tutto quello che è stato il comportamento e l'agire degli uffici in questi ultimi tempi con tutta una sequela di atti che dimostrano come indubbiamente vi sia stato un atteggiamento di rigore e di correttezza. Personalmente ho cercato di evidenziare che sulla base dei fatti la regione toscana si costituirà parte offesa e quindi con determinazione e chiarezza sarà al lavoro accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati, a cui va la nostra piena fiducia, accanto a quello che è il lavoro che viene complessivamente svolto per accertare la correttezza degli atti. E dall'altra parte mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato, visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale le propone, sovrentese naturalmente a quelle che possono arrivare dal livello regionale. Lunedì noi faremo partire l'iter attraverso una delibera di giunta. Massima fiducia nella magistratura, bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme. Abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste, esiste in Toscana, in Italia come nel mondo, è molto forte, serve una politica più forte in grado di contrastare le mafie, serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi. Bene che la Toscana si sia definita parte offesa, come ho condiviso quello che ha detto il Presidente Gianni del fatto di eliminare un emendamento, se anche questo può destare un semplice dubbio all'interpretazione di una norma, perché la Toscana è sempre stata molto attenta alle questioni di carattere ambientale, soprattutto servirà una politica in grado di fare scelte con qualità, competenza, con forza e con un ruolo nuovo al quale a mio avviso tutta la Toscana è chiamata, perché la Toscana è terra di diritti, di doveri, di lavoro, di solidarietà e soprattutto di uguaglianza. I cittadini toscani, il sistema produttivo si aspettano delle risposte chiare dalla politica e soprattutto dal Presidente Gianni, non la lettura come stamani dei buoni propositi e delle campagne di informazioni fatte, ma provvedimenti, provvedimenti in ordine alla bonifica dei siti inquinati, provvedimenti relativi a carotaggi, provvedimenti relativi naturalmente alla punizione dei responsabili quando saranno accertati, sia dal punto di vista penale, ci penserà la magistratura, sia però anche dal punto di vista amministrativo e per tale ragione abbiamo ricordato tra le altre cose che il nostro è un ente soggetto all'obbligo del piano per l'anticorruzione e la trasparenza amministrativa. In questo senso, come Vice Presidente della Commissione Ambiente, ho chiesto l'audizione di Arpat in Commissione e abbiamo chiesto naturalmente che Arpat dia seguito a un maggiore impegno sul territorio la garanzia dei cittadini per la qualità ambientale e in particolar modo la qualità delle acque che preoccupa tanto. In questi sono due elementi, valutare la responsabilità politica se c'è e salvaguardare il distretto produttivo di Santa Croce. Per tutti e due i motivi noi pensiamo che il Sindaco De Hida debba fare un passo indietro uno perché su lei grava, per quello che abbiamo detto sui giornali, una responsabilità politica marcata secondo perché un Sindaco su cui grava una responsabilità tale non può salvaguardare e tutelare la propria comunità in un momento di bufera come questo. Quindi come Fratelli d'Italia chiediamo che il Consiglio regionale, che tutti i partiti vogliono chiedere al Sindaco De Hida di fare un passo indietro, di rassegnare le dimissioni e di rasserenare con questa sua mossa la comunità che ha in maniera poco virtuosa rappresentato in questa vicenda. Noi dal Presidente della Regione ci aspettiamo un atteggiamento diverso, soprattutto su fatti così gravi. Lui deve venire e deve essere chiaro in aula perché portare chiarezza all'aula significa portarla anche ai cittadini toscani. Questa comunicazione arriva due settimane da quando siamo stati resi edotti purtroppo di questa inchiesta a livello regionale due settimane in cui il Presidente di Regione è stato zitto. Questo per noi è inaccettabile perché leggiamo giornalmente e vediamo sulle tv tutte le notizie che riguardano questa vicenda che ancora è ben lontana da essere risolta. Sappiamo che ci sono dirigenti regionali che sono indagati, abbiamo chiesto cosa intende fare il Presidente con il suo capo di gabinetto, lui dice che ha avviato una procedura ma noi gli abbiamo letto qual è il regolamento, basta semplicemente rimuovergli l'incarico e fargli cessare il lavoro qui in Regione. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della Toscana. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare. Tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi. Sul tema ambientale invece dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire, però c'è necessità di agire velocemente altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale e anche della salute dei nostri cittadini. Quindi continueremo a chiedere quelle cose a cui non abbiamo ricevuto risposta all'interno della commissione di inchiesta che abbiamo chiesto insieme a tutto il centro-destra perché riteniamo che portare avanti la strada della legalità, della chiarezza e della correttezza sia il minimo di quello che si può fare quando si siede all'interno delle istituzioni. E quell'emendamento è passato perché Gianni l'ha messo in votazione, lui poteva tranquillamente aspettare a metterlo in votazione, farcelo vedere, poterlo visionare e allora non sarebbe finito in legge. Certo che siamo favorevoli a rimuoverlo, però dobbiamo anche ricordare come è stato portato in aula e come è stato votato quell'emendamento. È stato votato solamente dalla maggioranza. Abbiamo ribadito alcuni concetti. Il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario. Il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana e per questo primo proponente Forza Italia, affermato tutti i colleghi di centro-destra, abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Vedete, i report che ci sono stati negli anni, a partire da quello della Fondazione Caponnetto, ci mettono un campanello d'allarme. Su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale noi vogliamo estrema chiarezza, vogliamo far luce, vogliamo capire quello che è successo con la tutela da un lato di un territorio importante, di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL Toscano, 6 mila addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi. E se c'è qualcuno che ha sbagliato, qualcuno deve essere allontanato, ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare noi dobbiamo sostenere quel distretto. Dall'altro capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla regione toscana sono state, a detta così, dell'inchiesta inquinate da infiltrazioni mafiosi. Ecco perché abbiamo detto sì all'eliminazione di quell'emendamento approvato nella seduta del maggio scorso che è oggetto di una parte dell'inchiesta. Non si può assolutamente dire che da parte della regione non ci sia stato rigore, attenzione e credo che chi dice che magari si poteva fare di più, sempre si può fare di più, ma credo che abbiamo tutti gli atti a posto. Poi il contrasto all'illegalità, il presidente Gianni ha fatto una lunga illustrazione di quella che è stata l'attività della regione negli anni passati, ma anche di quello che dovremo fare in futuro, probabilmente ancora di più e tutti assieme. Ma noi come Partito Democratico siamo i primi ad essere garantisti nei confronti di chi si trova magari in l'agonia mediatica e gli auguriamo di dimostrare le non responsabilità, ma siamo anche quelli che vogliono chiarezza, che si pongono sul versante della massima legalità e lavorano per questo. Quindi parteciperemo alla commissione d'inchiesta, ma abbiamo fatto una proposta ben più sostanziale e ben più strutturale, quella di trasformare l'osservatorio che oggi abbiamo per i beni confiscati in un osservatorio per la legalità. Ma il motivo per cui andremo a ripristinare le G20 è soprattutto il fatto di non vedersi eventualmente annullare un impianto legislativo sul quale si basa la possibilità di avere impianti misti come quello che hanno presupposto un lungo percorso di collaborazione e di investimenti tra pubblico e privato, che hanno coinvolto le istituzioni locali, la regione, le imprese, il Ministero dell'Ambiente che ha visto anche ulteriori modifiche e integrazioni con una rivisitazione che è stata fatta nel marzo del 2019 che prevede ulteriori milioni di investimenti anche da parte dei privati per andare sempre verso una sostenibilità maggiore nelle lavorazioni del distretto e nel trattamento delle acque ref. Fra i temi caldi del momento ancora la questione vaccini, soddisfazione palpabile del Presidente Gianni per i risultati acquisiti. Molto deve essere ancora fatto invece per le opposizioni. È un successo per l'impostazione della campagna vaccinale da parte della regione toscana. Domenica 25 aprile abbiamo riscontrato i dati che ci possono dire di aver completato la prima fase della vaccinazione degli over 80 e in questo caso la Toscana si è presentata insieme alla regione Veneto, a un soffio della regione Veneto come la seconda delle regioni italiane a arrivare a terminare la prima fase di questa campagna vaccinazione. Sui vaccini chiediamo un'accelerazione. Questi due, Superfragile, Download e CardGiver, stanno ancora aspettando le dosi vaccinali. Il Consiglio regionale si era espresso in maniera molto chiara. Vaccinari superfragili anche coloro che sono nel follow-up della chemioterapia, cioè che non hanno finito la chemioterapia soltanto nei sei mesi. Noi stiamo ancora aspettando che quell'atto di indirizzo del Consiglio regionale diventi realtà. Tutto questo è inaccettabile. Se l'Assemblea legislativa regionale ha un senso e si dà un indirizzo, l'assessore quell'indirizzo lo deve rispettare. Ed è anche un atto di rispetto nei confronti delle tante persone che non ce l'hanno fatta. È inaccettabile che in regione toscana i malati oncologici non vengano vaccinati. Si deve fare ancora meglio. Qualcosa è cambiato. Avevamo chiesto di cambiare, di inserire anche dei numeri verdi, far licitare le prenotazioni, avere un seguimento diretto. Avevamo chiesto l'utilizzo degli hub, l'intervento della protezione civile. Avevamo chiesto alle ASLE di accompagnare il percorso dei medici di base. Quindi tutte le questioni che a mio avviso hanno migliorato fondamentalmente la campagna di vaccinazione si deve fare ancora meglio. Il trend lo vedo positivo e quindi mi auguro che nei mesi di maggio, giugno e luglio si possa fare bene, si possa fare meglio, più veloce e si possa portare la Toscana dal momento in cui un'immunità di Grecia possa veramente consentire una ripartenza reale. È evidente che se arriva allo stesso numero, ma una buona parte di quel numero viene utilizzato come seconda dose, diminuisce il numero delle prime dosi, cioè dei nuovi vaccinati. Allora queste cose qui vanno spiegate chiaramente ai toscani, perché ora noi siamo nuovamente assaliti, noi sia in minoranza, mi immagino anche che stia in maggioranza, da persone che dicono sono chiusi alle prenotazioni, non ci si riesce a vaccinare. Era una cosa ovvia. Procedono anche le alti livelli di vaccinazione, c'è però da recuperare in maniera forte la vaccinazione degli estremamente vulnerabili, che devono essere conclusi il più velocemente possibili, e dei caregiver. Questi sono la priorità assoluta della Toscana in questi giorni, e noi chiediamo formalmente alla Giunta giovedì di fare questo scatto, che è assolutamente necessario, perché è chiaro a tutti che ormai le quantità anche di estremamente fragili da vaccinare non sono altissime, ma è importante, è un segno di civiltà, chiudere velocemente questa vaccinazione. Questa è la situazione di oggi. Gente che sta di fuori in fila con un assembramento perché vuole essere vaccinata, altre persone che non riescono ad essere vaccinate, pur avendone completamente i diritti, per cui io credo che la Toscana non abbia fatto una bella figura. Da quello che risulta ci sono ancora molte persone che devono essere contattate dalle ASL, e il fatto che comunque si sia riusciti a completare una buona parte non nasconde comunque che questo è avvenuto con un gravissimo ritardo. E con altrettanto grave ritardo si sta attivando la commissione speciale per quanto riguarda i vaccini. Una volontà, secondo me, evidente della Regione Toscana di non voler fare un monitoraggio, un'analisi di ciò che è andato storto per cercare di riparare. Quindi un mancato riconoscimento di tanti errori che sono stati fatti e di cui, lo ripeto, non si può attribuire esclusivamente la responsabilità a minore quantità arrivate. L'utilizzo dello Pfizer rispetto agli AstraZeneca per alcune categorie di amministrativi e molti altri errori non sono giustificabili e continuano a inficiare il risultato di questa campagna vaccinale insieme all'utilizzo della piattaforma e con tutti i problemi di prenotazione che ci sono stati. Grazie per la visione!